Il problema dovrà appunto come chiede la regione maggioranza rispetto al socio Trenitalia, che cosa operativamente cambierà in regione Lombardia, quali vantaggi ci saranno? Io rappresento una società quotata in borsa, quindi sapete che a queste affermazioni e a queste domande non posso rispondere, risponderò nel caso in assemblea quando la politica, governo regionale e governo nazionale faranno le loro valutazioni liberamente.